Dopo il successo all'interno di AgriFood, l'Abruzzo ancora protagonista l'Expo Dubai 2021. Gli appuntamenti del 14 e 15 marzo hanno sancito come la nostra regione abbia fatto passi decisivi verso la filiera dell'idrogeno. Tutto questo grazie ad Arap, braccio operativo della regione nella Mission di Dubai, che sta partecipando anche a due bandi ministeriali che mettono a disposizione risorse per la produzione della componentistica necessaria allo sviluppo dell'idrogeno verde. Dobbiamo dare servizi a valore aggiunto, servizi innovativi e soprattutto dobbiamo essere promotori di un sistema, di un approccio sistemico, essere catalizzatori di tutti gli operatori economici per far sì che si inizi a pensare sul tema del momento, quello della sostenibilità ma quello dell'efficienza energetica perché su quello noi giochiamo tutta la partita della sopravvivenza, non tanto della competitività, iniziare a pensare a un sistema ad esempio che riguarda la fornitura dell'energia. E quindi a un sistema di comunità energetica ma iniziare a pensare anche a progetti in cui l'energia si produce e viene consumata sul territorio. Non solo eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche quindi, ma anche grande attenzione a quelle che sono le eccellenze industriali della nostra terra. L'Abruzzo negli anni è diventato un modello di sostenibilità invidiata all'interno della nostra nazione, non solo grazie alla propria capacità di far coesistere poli industriali e tre parchi nazionali. Ringraziando Dio noi abbiamo un sistema automotive che rappresenta il 55% dell'export regionale che oggi nonostante i tanti problemi che attanagliano questo settore riesce ancora a stare in piedi. Allo stesso tempo i nostri parchi rappresentano sicuramente una fonte di attrazione turistica che stiamo cercando di valorizzare quotidianamente. Dal 21 al 23 marzo a Dubai i protagonisti saranno ora le aziende interessate all'internazionalizzazione. L'obiettivo? Quello di staurare attraverso la collaborazione con la Camera di Commercio di Dubai un filo diretto tra imprese miratine e il territorio della regione Abruzzo. È la parte più complicata ma anche la parte più bella. Arap ha fatto una selezione prima con un marchio scientifico attraverso la collaborazione con gli istituti universitari perché volevo uno spaccato delle necessità di tutte le aziende. Era uno spaccato che non serve solo per Dubai o per l'internazionalizzazione ma serve per capire cosa serve alle aziende.